Il giuramento è molto breve, veramente adesso io farò il giuramento e poi ringrazierò un attimo dopo tutti i presenti così come tutti i cittadini di Tremonti, giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Io vi ringrazio questa sera il Consiglio Comerita e i cittadini che ha riconfermato l'administrazione che mi ha accompagnato da 5 anni. Ringrazio e dà un buon lavoro a tutti i consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione. L'altra sera abbiamo avuto la vista del Vescovo e ciascuno di noi per la tua parte sia per la maggioranza che per l'opposizione. Abbiamo dettato che effettivamente io ritengo sia la nostra volontà del Vescovo, quello di fare, di lavorare per il bene del nostro Paese. Ciascuno di noi ama il suo Paese perché altrimenti non metteva in discussione se stesso e non metteva la sua faccia per questa cosa. Io penso che questo Consiglio Comunale abbia la professionalità e le competenze per poter dare un risultato al nostro Paese. Lo diceva il Presidente precedenzialmente che anche l'opposizione farà la sua parte, la farà con rigore e darà il suo apporto favorevole e positivo alla crescita del Paese. Io ringrazio tutti i cittadini che in un numero così grosso hanno voluto confermare la fiducia alla mia persona e alla coalizione che mi ha accompagnato. Vi dico che lavorerò sempre con la stessa condizione, cioè con lo stesso stradonario, ma l'alguna volta con una grossa forza anima e tuttanta realtà e trasparenza per cercare di portare a casa migliore e così tutta lo sito e per riportare questo Paese a quelle che sono messe le giuste considerazioni. Vi ringrazio e vi auguro, vi faccio tanto l'aglio e vi auguro. Applausi Applausi Grazie.